Buonasera, questa sera come prova di laboratorio voglio testare questo mixer passivo 218 GHz. Come oscillatore locale ho utilizzato questo oscillatore 8,7 GHz disciplinato esternamente con un oven da 5 MHz. L'uscita dell'oscillatore locale che è 15 dBm l'ho attenuata di circa 2 dB, perché il mixer passivo accetta massimo 13 dB di segnale dell'oscillatore locale. Come generatore di segnale ho usato il solito HP 8620C, do un segnale di 8,4 GHz con un'ampiezza di circa meno 50 dBm. Questo segnale va all'ingresso del mixer, l'uscita va all'analizzatore di spettro e per battimento abbiamo circa 300 MHz con un'ampiezza di circa meno 57 dBm, in quanto il mixer attenua il segnale originale di circa meno 6 dB. Dalle misure effettuate il mixer rispetta pienamente le sue caratteristiche e l'abbiamo testato alla frequenza di 8,4 GHz, la frequenza che a me interessava. Vi ringrazio dell'attenzione e buonasera a voi.